Dopo la sua separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato sorpreso per la prima volta in compagnia di una giovane donna di nome Martina, originaria di Pescara. Martina Trivelli, 26 anni, lavora nella divisione commerciale dell'azienda di cosmetici Filorga come retail specialist. Nonostante non sia una celebrità nel mondo dello spettacolo, il suo profilo personale su Instagram, con il nome Smart15, conta oltre 11.000 seguaci. Condivide con loro scatti della sua vita quotidiana e dei suoi viaggi in giro per il mondo. Stefano De Martino sembra aver la scelta come sua compagna dopo la separazione da Belen Rodriguez. I fotografi del settimanale Chi hanno immortalato il famoso ballerino e conduttore televisivo napoletano in sua compagnia per le strade di Milano. Il giornale racconta di una serata romantica seguita da una cena in un ristorante milanese e di una notte passata insieme nel suo appartamento. Le foto li mostrano mentre passeggiavano prima di rientrare nel palazzo dove Stefano vive, intorno a mezzanotte. La mattina seguente, sembra che Martina abbia lasciato l'edificio. Dopo la nuova relazione di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni, documentata con foto su Instagram e su numeri precedenti del settimanale Chi, sembra che anche Stefano abbia deciso di non nascondere più la sua vita privata. Ora sembra intenzionato a godersi la sua nuova relazione con Martina alla luce del sole, anche se non è stata ufficializzata. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.